Nei giorni in cui la maggioranza di Franco Landella si sfalda, a tenere banco non è soltanto la questione AMIU che porterà ad un aumento della Tari fino al 19%, ma è soprattutto la carrer legata alla transazione amica che rischia di far diventare le dimissioni del sindaco, qualcosa di più serio rispetto ai tatticismi politici. La Corte dei Conti, che monitora le manovre finanziarie del Comune di Foggia, nell'ultima relazione semestrale ha individuato nel fallimento della transazione della ex società dei rifiuti, il più grande rischio per la tenuta economica dell'ente. Per il dirigente del settore servizi finanziari Carlo Di Cesare, il rischio default potrà essere ancora evitato anche dopo la bocciatura del Tribunale sulla transazione plurimilionaria tra Comune di Foggia e società amica. Quali prospettive ci saranno adesso? C'è il giudice, fallimenta il giudice delegato della procedura amica che ha rigettato la transazione, noi rispettiamo le decisioni del giudice, queste sono passività potenziali e non sono debiti, quindi c'è tutto un contenzioso in atto e quindi valuteremo poi il da farsi. Vedremo poi causa per causa se il Comune sarà soccombente su questo. Però se sarà soccombente ci sarà un rischio default del Comune? C'è il rischio default ma non è a breve, nel senso che le cause poi bisogna vedere se tutte e cinque le cause il Comune è soccombente, poi ci sarà comunque un appello e quindi sono contenziosi che durano almeno 4-5 anni, quindi non è una questione che a breve termine possa essere risolta.